Come memorizzare le data del congresso di Vienna? Il congresso di Vienna si svolge in due anni dal 1814 al 1815. Per ricordarsi la data è molto semplice. 1814, 1814, ricordiamoci questa divisione. La differenza che c'è fra 18 e 14 è 4. Quindi basta ricordarsi questi due numeri in questa maniera. 1814 inizia il congresso di Vienna, finisce nel 1815. Ciao al prossimo video, vi aspetto!